Venezia. Anche la venticinquesima mostra d'arte cinematografica si è conclusa con una grande affermazione del cinema italiano. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato la presentazione dei film in concorso e le discussioni sulla mancata partecipazione coreografica delle grandi dive, questa venticinquesima edizione del festival veneziano si è conclusa con un bilancio lusinghiero e positivo. Al palazzo del cinema applausi per Michelangelo Antonioni, vincitore del leone d'oro di San Marco e autentico trionfatore del festival veneziano col film Deserto Rosso. Vieni, ci presento un amico, vignor Zeller, mia moglie. Per fortuna il camera non è bloccato. E si è fatta molto male? No, molto male no. Qualche contusione, più che altro lo shock, uno shock tremendo. Sono le uova di quaglia. È vero, sono afodisiache. Fai fetto subito. Se fai fetto subito, mangi anche le altre. Io ho voglia di fare l'amore. Sono riuscita perfino a essere una moglie infettete. Grazie a tutti. Grazie a tutti.